Buonasera ragazzi e ragazzi, eccoci in un nuovo video lampo, velocissimo perché stiamo per uscire stasera andremo a mangiare una pizza con tre amici però usciamo un attimo prima perché è piavuto tutto il giorno e andiamo un attimo al centro commerciale, praticamente lo trascino al centro commerciale un attimo dopodiché andiamo appunto, ci troviamo in centro per andare a mangiare questa pizza con gli amici vi faccio vedere l'outfit perché faccio questo video apposta siccome ho indossato, ho lavato, ho stirato la roba dei saldi, anzi questa non l'ha stirata in realtà stupendo e vedete un po' come l'ho abbinato allora, questa è la camicia di Oviaz pagata 5 euro in saldo ho messo sotto una canottiera blu di intimissimi ho messo il pantalone bello, questo dono qua ecco qui comodissimo tra l'altro, anche leggermente abbondante perché comprare da CEA sono misure belle, abbondanti e io sono così felice di questa cosa poi come trucco ho usato una tinta labbra della Essence sapete quei tubettini che faccio sempre a vedere, anzi ve lo cerco questo qui che si chiama Wanna Play e ho messo del dorato e del marrone negli occhi niente di più poi vabbè, orologio solito e bracciali soliti questo qua che ho comprato all'estero tutte charasse da pochi euro però mi piace molto l'abbinamento perle e perline, adoro le perle se non l'avete capito mi piacciono un sacco in tutti i posti e profumo, anzi no la borsetta finalmente metterò delle scarpe nere da ginnastica quelle col fiocco che metto sempre quando piove e metto questa borsetta quindi giusto che riprende un pochino i colori della camicia che c'è il marrone, marroncino almeno la uso una volta e poi perché è abbastanza piccola e dentro gli occhiali da sole non ci stanno quindi ma gli occhiali da sole a quest'ora non ci va più il blush l'ho messo un po' sempre da più pericoli ok? poi mi porto dietro la giacchina, quella nera famosa perché è da ieri che piove e qua sono scesi tanti gradi e io sono così contenta di respirare un po' e questa è la giacca nera quella del mercato vediamo se non è il top però, blu nero aspettate che provo la beige ecco qua, questa è quella beige ma secondo me no, troppo beige quindi metto quella nera quindi metterò la giacca nera che ho buttato sul letto metto questa e poi come profumo ho visto un post dove a parte che oggi mi sono veramente dove finita dunque stamattina ho fatto le pulizie e oggi mi sono un po' rilassata nel pomeriggio e mi sono messa un bel profumo alla vaniglia che comprerò che non vi svelo ma comprerò e però così guardando su facebook una ragazza ha fatto scorte da tigota e ha comprato anche l'essence di patchouli quindi io me la metto perché mi piace un sacco soprattutto in autunno questo è proprio un profumo anche inverno è un profumo che adoro voilà ottimo mi piace un sacco e basta io vi auguro buon sabato sera buon weekend buona domenica ciao a tutti maggiore ciao a presto